bella a tutti ragazzi io sono adri e benvenuti in questo nuovissimo video di gt online come vedete qui alle mie spalle abbiamo praticamente fatto tutti i preparativi per quanto riguarda il colpo al casino che faremo in modalità imbroglio e per quanto riguarda il bottino abbiamo i diamanti ragazzi ci sono i diamanti per quanto riguarda il colpo al casino se ancora non lo sapete questa settimana avete un circa 18 per cento di possibilità di trovare i diamanti quindi mi raccomando fate il colpo al casino perché si guadagna veramente molto bene in questo video ve lo faccio vedere e tra l'altro vi ricordo di iscrivervi al canale attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i prossimi video tra cui appunto il video dell'aggiornamento settimanale del giovedì dove vi parlo sempre di tutti i vari bonus che escono di settimana in settimana come per esempio appunto i diamanti al casino questa settimana inoltre vi ricordo che per fare il colpo al casino serve la sala giochi la sala giochi sempre questa settimana è in offerta per quanto riguarda il colpo al casino le missioni preparative e preliminare insomma le potete fare anche in singolo quindi le potete fare da soli però per quanto riguarda il colpo dovete essere almeno due quindi il colpo non si può fare da soli ma servono almeno due giocatori e si può fare fino a un massimo di quattro persone per quanto riguarda il colpo che andremo a fare noi come vi ho detto è il colpo con la modalità imbroglio quindi sarebbe quello dove praticamente prendiamo in giro la sicurezza del casino e entriamo senza insomma farci sgamare e senza avere problemi come ingresso abbiamo selezionato il tunnel di sicurezza per quanto riguarda il completo di entrata e quindi il modo di entrata abbiamo fatto la gruppe 6 per quanto riguarda l'uscita invece come potete notare abbiamo messo la reception ed in più come completo di uscita abbiamo messo il completo dei pompieri utilizzeremo questo completo perché praticamente potremo uscire anche qui senza farci diciamo beccare dalla polizia in modo tale da andare molto tranquillamente verso le nostre auto per la fuga ed andarcene in tutta tranquillità ecco e quindi alla fine come potete notare il guadagno potenziale di un colpo al casino con i diamanti all'incirca è di 3 milioni 619 mila dollari ovviamente ringrazio marco per aver creato il colpo e ringrazio anche giorgio per aver partecipato a questo colpo e soprattutto li ringrazio per avermi messo il 70 per cento del bottino raga se ancora non avete lasciato like mi raccomando andate qua sotto lasciate un bellissimo like cerchiamo di arrivare superare i 750 like per questo video ve ne sarei veramente molto grato vediamo se riusciamo a superarli sarebbe veramente un record per quanto riguarda questo video ma siccome appunto abbiamo un obiettivo record come diamanti mi raccomando vale il like andate qua sotto lasciate like grazie mille a chi l'ha fatto ed eccoci qua raga guardate il team al completo e andiamo alla volta del casino pronti per fare questo colpo super gasati raga tra l'altro raga fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete riusciti oppure no a trovare i diamanti al casino questa settimana mi raccomando io vi auguro molta fortuna se ci riuscite gg che vi portate a casa un bel po di soldi appunto ed eccoci qua raga siamo arrivati al casino come vedete qui alle nostre spalle noi andiamo nella parte dove si entra e automaticamente partirà la cinematica quindi che entreremo qua sotto ok siamo appena entrati raga come vedete semplicemente dobbiamo andare qui avanti su questa strada che entreremo nella parte dove adesso ci faranno il controllo infatti come vedete raggiungi l'area di carico si aprirà questa prima porta ci dovremo fermare qua per fare il controllo faranno la verifica e tutto quanto e con il travestimento che abbiamo appunto le telecamere dipendenti non si accorgeranno di noi quindi non allerteremo le guardie come avete visto si è appena aperto il portone quindi dobbiamo andare a parcheggiare il nostro furgone qui mi raccomando dovete sempre mantenere un profilo basso quindi non fate cose strane a questo punto dobbiamo andare qui all'ascensore semplicemente passiamo la tessera per aprire le porte dell'ascensore e per poterlo utilizzare l'ascensore ci porterà direttamente al seminterrato dove si troverà il cavo quindi usciamo e come vi dicevo appunto le guardie non ci noteranno perché appunto noi siamo effettivamente dei dipendenti del casino che dobbiamo venire qui regolarmente per ritirare dei soldi dalla cassaforte quindi nessuno ci dirà nulla fantastico semplicemente ci dovremmo avvicinare adesso qui ai terminali mentre giorgio e marco inseriranno la tessera mi raccomando dobbiamo sempre inserire la tessera contemporaneamente quindi fatto ciò si aprirà questa parte poi qui ovviamente la solita gara per chi arriva prima al cancello anche perché chi arriva prima poi darà il pugno al tipo davanti alla cassaforte tra poco comunque lo vedrete non penso di essere io a meno che non succedano cose strane perché io comunque sono abbastanza indietro come vedete e dovrebbe essere giorgio molto probabilmente a dare il cazzo alto al tipo ok una volta arrivati partirà di nuovo un'altra cinematica dove praticamente la guardia insomma qui del cavo verrà ad aprirci il cavo per cui noi sotto questo aspetto non dobbiamo fare nulla a differenza per esempio di altre missioni dove dovete trapanare eccetera eccetera insomma il cavo e come vedete eccolo qua ci ha aperto e giorgio gli ha dato un bel destro stendendolo e ci apre praticamente la porta per il paradiso sotterraneo del casino per quanto riguarda i diamanti come vedete ci sono tutte le lettere qui in basso quindi a b c d e f g insomma tutte le varie lettere semplicemente avvicinatevi a tutti i diamanti li prendete li raccogliete man mano che li prendete raga come vedete in basso a destra aumentano un sacco di soldi fate inoltre attenzione perché come vedete sempre in basso a destra c'è un tempo limite in questo caso abbiamo tre minuti per cui ci dobbiamo sbrigare per cercare di prendere il massimo dei bottini sia principali che secondari appunto nel tempo stabilito perché se non rispetteremo questo tempo poi rilasceranno il gas nervino e quello poi ci ucciderà quindi dobbiamo uscire prima che scada il tempo mi raccomando è fondamentale perché se no non ce la faremo insomma uscire in sicurezza da qua intanto io ho appena finito di raccogliere il primo carrello di diamanti e come vedete siamo già un milione centomila dollari andiamo ora qui alla h andiamo a raccogliere gli altri diamanti il consiglio che vi do personalmente fate fare l'hacking a chi sa fare meglio di voi l'hacking per quanto riguarda l'hacking dovete semplicemente diciamo far matchare due impronte praticamente voi avete delle impronte sul lato sinistro dello schermo che dovete far corrispondere a quell'impronta che c'è sul lato destro dello schermo alla fine è tutto una cosa di memoria perché comunque le impronte sono sempre le stesse basta che poi vi ricordate i vari pezzi quali sono e automaticamente sbloccate le varie porte come vi dicevo il consiglio è che appunto uno va ad aprire tutte le porte mentre gli altri due vanno a raccogliere i diamanti o comunque qualsiasi altro bottino che avete intanto io ho finito il secondo bancone come vedete siamo a due milioni nel mentre mi appresto qui ad aprire anche le cassette di sicurezza vi faccio vedere basta che ci avviciniamo alla cassetta e premiamo il tasto automaticamente trapanerà in automatico per raccogliere questi soldi che si trovano all'interno della cassetta per trapanare premete r2 se siete su ps4 ps5 come nel mio caso e potete prendere praticamente tutti i soldi che si trovano all'interno delle cassette ovviamente quelle illuminate di rosso che sarebbero quelle tra virgolette occupate quindi trapanate tutte queste cassette occupate per prendere un po di bottino extra ma vi ricordo appunto l'obiettivo principale sono i diamanti quindi prima prendete i diamanti dopodiché una volta che avete preso i diamanti concentratevi sulle cassette e questo purtroppo è stato un piccolo errore che abbiamo fatto noi durante il colpo perché effettivamente non ci siamo concentrati al 100% sui bottini principali e quindi non siamo riusciti a prendere proprio tutto come vedete per quanto riguarda il tempo adesso mancano 16 secondi io purtroppo stavo per fare l'hacking all'altra porta però ho visto che il tempo era poco quindi effettivamente non valeva la pena di mettersi lì a fare l'hacking sarebbe già scaduto il tempo e quindi sarebbe scattato il gas nervino per cui non aveva senso fare l'hacking e purtroppo abbiamo dovuto lasciare questo può capitare raga considerate che comunque se siete bravi riuscite a prendere tranquillamente tutto quindi come vi dicevo l'importante è uscire fuori raga prima che scada il tempo e dobbiamo aprire adesso queste porte come vedete anche qui dobbiamo inserire le tessere come vedete siamo appena usciti qui ancora nessuno si è accorto che abbiamo derubato il casino questo è il bello tra l'altro del colpo imbroglio perché così avete il minimo di colluttazione con gli avversari e semplicemente dobbiamo uscire e continuare a fare il nostro lavoro andiamo adesso qui alle scale con la tessera giorgio ci aprirà qui la porta delle scale dobbiamo salire sulle scale adesso ce ne andiamo dalle scale per arrivare al piano superiore e come vedete mentre saliamo le scale sono comparse le 5 stelle della polizia aspettate che questo tipo passi appena passa dategli un colpo in testa mi raccomando dovete essere tattici per fare questa parte aspettate sempre che i tipi vi passano in modo tale che poi gli uscite alle spalle e gli date un colpo perché nel momento in cui vi individueranno li avrete tutti addosso e vi inizieranno a sparare addosso mi raccomando qui a sinistra fate attenzione perché c'è sia la telecamera che il tizio aspettate che il tizio sia dall'altra parte in modo tale che possiamo entrare qui all'interno dello spogliatoio e della lavanderia della zona lavanderia e dobbiamo tutti indossare il nostro completo dei pompieri in modo tale da poter uscire praticamente ci mettiamo questo travestimento così loro non si accorgeranno di noi semplicemente si aspettano che noi siamo qui per cui possiamo tranquillamente uscire dall'ingresso principale del casino e non sapranno effettivamente che siamo noi quelli che hanno derubato il casino nonostante che comunque sulla spalla tutte e tre abbiamo tre borsoni enormi ma vabbè tralasciamo la logica di gta come vedete semplicemente siamo usciti dall'ingresso principale e appena usciamo come potete notare praticamente partirà subito questa cinematica dove arriva tutta la SWAT al casino perché ovviamente l'abbiamo derubato quindi sono in massima allerta a questo punto dobbiamo fare la seguente strada come vedete saliamo qua sopra entriamo all'interno qui dell'ippodromo e automaticamente dobbiamo andare alle auto vi faccio vedere tra l'altro anche sulla mappa che tutti i poliziotti tutte le varie telecamere sono tutte indicate di bianco questa cosa sarebbe stata un problema se non avessimo fatto il colpo in questa maniera perché tutti si sarebbero potuti accorgere di noi e ci avrebbero potuto sparare insomma e danneggiare quindi il bottino e appena abbiamo la possibilità qui di girare a destra gireremo a destra dove praticamente come vedete c'è questo furgone marco ha già svoltato a destra dobbiamo poi scendere giù questa discesa e proseguire qui dritto praticamente dobbiamo scavalcare qui adesso questa inferiata e automaticamente siamo già fuori dall'area del casino e dobbiamo semplicemente andare dritto per dritto verso le nostre auto come vedete la polizia ancora non si accorta di noi non so perché marco e giorgio sono entrati dentro a quel parcheggio ma hanno perso un po di tempo vabbè non fa niente svoltiamo qui a destra e le nostre auto per la fuga si troveranno qui tra poco sulla destra a questo punto come vedete sta arrivando anche la polizia normale che effettivamente adesso sa che siamo noi quindi ci hanno individuato effettivamente sia gli elicotteri che i poliziotti a questo punto tutti quelli che prima erano bianchi si trasformeranno e diventeranno rossi quindi diventeranno nostri nemici effettivamente e ci inizieranno a sparare anche loro come vedete l'ingresso delle fogne sarà qua penso che la maggior parte di voi lo sa ma comunque lo faccio vedere perché so che c'è sempre qualcuno che magari è nuovo e non sa dove è l'ingresso delle fogne semplicemente dobbiamo entrare qui all'interno delle fogne guidate per un pochettino se volete oppure semplicemente aspettate qui come vedete qui all'interno delle fogne automaticamente inizieremo a perdere la polizia perché giustamente non ci vedono e non sanno dove siamo e quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è aspettare un pochettino che effettivamente seminamo la polizia per poi poter andare dal nostro acquirente in tutta tranquillità intanto come vedete raga finalmente abbiamo seminato la pula quindi non abbiamo più le 5 stelle di polizia bene come vedete siamo adesso vicinissimi all'uscita delle fogne dall'altra parte e siamo usciti praticamente qui sull'autostrada dove c'è l'altro ingresso appunto per entrare in tutta la parte sotterranea dove c'è sia il cantiere anche della metro eccetera eccetera e automaticamente adesso non avremo più la polizia che appunto abbiamo seminato quindi il nostro obiettivo sarà semplicemente guidare 8 chilometri fino ad arrivare al nostro acquirente e una volta arrivati all'acquirente gli daremo il bottino e il colpo sarà fatto e una volta che entrambe le macchine saranno arrivate partirà questa cinematica dove appunto diamo i diamanti a loro e loro ci daranno il compenso in denaro per quanto riguarda il bottino che abbiamo trovato e come vedete il nostro bottino finale effettivo è di 2 milioni 200 mila dollari la mia parte non so perché alla fine mi ha dato il 15 per cento e quindi mi ha dato 338 mila dollari a marco sicuramente avrà dato un bel po di più quindi raga io vi ho fatto vedere come si fa il colpo al casino quanto si guadagna poi insomma vedete voi se vale la pena fare il colpo al casino se preferite fare caio perico per guadagnare soldi questo insomma lascia a voi la decisione casomai fatemelo sapere qua sotto nei commenti mi raccomando iscrivetevi se ancora non siete iscritti lasciate like detto questo da tri è tutto un salutone ci vediamo con il prossimo video con la prossima live da tri è tutto bella